Assessore Rizzo, bonifica un tema su cui c'è bisogno di fare molta chiarezza. Come stanno le cose in virtù anche di quelli che sono i tavoli istituzionali aperti? Beh, diciamo che ci sono stati dei grandi passi in avanti per quanto riguarda gli incontri che abbiamo fatto con la Commissaria Belli e anche con il Ministero dell'Ambiente. È stato presentato un progetto da parte di Sindial, che è un progetto che probabilmente non vede d'accordo tutte le istituzioni e sul quale io ho chiesto in maniera molto specifica in conferenza dei servizi che si potesse fare un confronto tra questo e un altro che possa prevedere anche il conferimento in discarica. Ma soprattutto ho chiesto che si possa inchiodare Sindial alle proprie responsabilità, dicendo a Sindial di fare tutte quelle opere che sono delle opere che possono essere comuni a qualsiasi tipo di bonifica e che riguardano soprattutto la messa in sicurezza del territorio in maniera particolare di quello che prevede le discariche a mare, per cui quella protezione marittima che è necessaria per consentire poi di smantellare la discarica e di deciderla se confinarla nel sito di Pertusola oppure se portarla in discarica. Lei sosteneva che non tutti ancora sembrano essere d'accordo? Beh, quello che auspico, quello che ho chiesto più volte al Sindaco di Crotone con delle lettere che sono protocollate e con le quali ho chiesto degli incontri, degli incontri alla presenza anche dei sindacati, di tutte le forze sociali, delle associazioni di categorie, proprio perché questo è sicuramente un argomento così importante per la città di Crotone che la cittadinanza aspetta da troppo tempo per il quale non ci possono essere delle divisioni. Però credo che bisogna fare chiarezza e bisogna dire con altrettanta sincerità che qualsiasi progetto si andrà ad approvare ci saranno dei rifiuti che resteranno lì, che sono i rifiuti radioattivi, quelli che contengono norm e tenorm, perché non esistono discariche in Italia che li possono accogliere, per cui saranno messi in sicurezza e confinati nel sito Pertusola. Gli altri rifiuti, quelli meno pericolosi, quelli però che hanno un volume maggiore, quelli sui quali si può fare maggiore business, dovranno essere portati fuori, almeno secondo quello che qualcuno pensa. Si fa sempre un gran parlare di quelle che saranno le ditte che dovranno lavorare alla bonifica, che dovranno essere impiegate. Anche in questa direzione ci sono state delle richieste esplicite. Le richieste esplicite le ha fatte la Regione Calabria, ancora una volta, le abbiamo fatte a Sindial, le abbiamo fatte anche cercando di fare nostre quelle che sono state le istanze dei sindacati, soprattutto di Confindustria. Abbiamo chiesto che possano lavorare le ditte crotonesi, che possono essere impiegate le maestranze crotonesi, che hanno già dimostrato nella fase di decommissioning di poter essere utilizzate validamente, perché il progetto è stato non solo portato avanti ma è stato ultimato. Per cui riteniamo che una ricaduta sociale sia dovuta alla città di Crotone. I tempi per la realizzazione? I tempi sono anche questa una domanda che abbiamo fatto in maniera specifica alla conferenza di servizi e Sindial è stata molto chiara, ha risposto che il progetto di fattibilità che ha presentato, anzi lo studio di fattibilità che ha presentato, richiede più o meno 12 anni di tempo perché possa essere attuata la bonifica. Devo però chiarire che qualunque tipo di bonifica si faccia, o che la si faccia in sito, o che si vada in discarica, questi sono i tempi, nel senso che chi ritiene che i rifiuti del sito per Tusa possono essere presi tal quali e portati in discarica, non conosce la realtà perché non saranno mai autorizzati dalla Regione Calabria ad essere portati tal quale. Se bisogna metterli in sicurezza bisogna fare un intervento di confinamento perché vi sia un sito in cui si possa fare la vagliatura di questi rifiuti, perché gli stessi possono essere messi in sicurezza e poi una volta messi in sicurezza decidiamo di trasportarli altrove. Allora mi domando e chiedo anche ai cittadini crotonesi, li dobbiamo trasportare altrove perché qualcuno debba fare affari sul trasporto e sul conferimento in discarica? E diciamo anche ai cittadini crotonesi che non potrà essere utilizzata per lo smaltimento di tutti i rifiuti la discarica di crotone, la discarica privata che viene gestita da imprenditori privati crotonesi. Questo non perché la Regione Calabria sia contro questi imprenditori ma perché vi è un protocollo all'interno di Sindial che come voi sapete è partecipata per il 30% dallo Stato che non consente di affidare alle imprese locali più di determinate percentuali. Per cui se è un milione di metri cubi quello che deve essere smaltito dal sito Pertusola magari solo il 10% potrà andare alla discarica crotonese. Per il resto ci saranno questi tir che cammineranno lungo le strade calabresi inquinando sia con CO2 sia naturalmente con quelle che possono essere le emissioni che dovrebbero venire da questi rifiuti pericolosi. Insomma c'è da fare molta chiarezza partendo da un principio saldo che è quello dell'affermazione della legalità? Io credo che il Presidente Oliverio farà una richiesta ben precisa che ci sia un intervento da parte del Ministero dell'Interno perché quello del sito di Pertusola, la bonifica del sito di Pertusola è un affare troppo grosso sul quale dobbiamo vigilare e soprattutto noi dobbiamo fare una richiesta fondamentale al commissario straordinario delegato, la dottoressa Belli. E io dico commissario straordinario delegato in maniera strumentale perché il commissario straordinario ha una delega precisa perché deve essere un facilitatore per la bonifica. Deve poi fare un cronoprogramma che deve presentare ai sottoscrittori dell'accordo di programma del 2011 che sono il Ministero dell'Ambiente, la Regione Calabria, il Comune di Crotone e la provincia. Deve dire come utilizzerà i 70 milioni di euro, quale saranno le ricadute che ci saranno per il territorio crotonese, quale tipo di attività metterà in campo perché i 175 milioni che Sindial deve spendere vengono messi a disposizione anche del territorio crotonese con delle ricadute che devono essere di tipo sociale, di tipo economico ma che tengono conto anche di quello che è l'impatto ambientale della bonifica. Allora io richiamerei la Belli a non utilizzare strumentalmente i termini perché messi in sicurezza e bonifica possono essere coincidenti secondo quello che stabilisce il decreto legislativo 152. E ai cittadini crotonesi va detta la verità, va detta che quelli che sono i rifiuti più pericolosi, quelli che sono i veleni più dannosi resteranno lì perché non c'è alternativa. Gli altri, quelli che possono essere messi in sicurezza, che magari potrebbero restare lì con tutte quelle precauzioni che dovrà stabilire ARPACAL, ISPRA e soprattutto dovrà validare il Ministero dell'Ambiente, qualcuno preferisce portarle da altre parti. Questa è una domanda che io ho già fatto al Presidente Bratti, che il Presidente Oliverio farà al Presidente Bratti e rispetto alla quale pretendiamo chiarezza, perché quello che la Regione Calabria chiede è che vi sia una messa in sicurezza, una bonifica con rischio zero per la cittadinanza crotonese.